C'abbiamo un piccolo problemino, tipo il fatto che mi ha terminato il video a caso, vabbè, facciamo che questa è parte 2, sì dai, anche perché sennò cosa non è che non so, io non ritorno da quelle stelle regine, qua c'è l'amministrazione. Am I coming through? We are cut off from the surface. Specimens are crawling all over this place. Find your way to the base power plant. From there you can restart the entire system. Once online, I can get a message to the mainland. Get it done, son. Out. E se qua spunta da un dinosauro, c'è soffritto. Ok, channel, let's move it. Grazie a tutti. Sembrerebbe che ci siano arrivati soldati. Ah, però non solo di loro. Cavolo, non sono dalla nostra parte questi soldati. Ah, sono nemici, cioè, probabilmente hanno approfittato di questa cosa. O forse l'hanno causata loro, eh, perché secondo me potrebbe essere anche quello, per rubarci le cerche. Neanche hanno preso il controllo di un'area. Del male. Cioè, sono... Non so proprio dove potessero... Però niente di utile. Non so proprio dove potessero... Cos'è? Oddio, è un grosso gigante. 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 Vabbè posso ammazzarli però Oh Che lodi No io non volevo scendere di nuovo E' un bel zebufo Tipo rana diavolo La rana diavolo Del cretaccio Raggiunge un metro di altezza L'avevo visto Ah si può mangiare piccoli dinosauri Non è molto aggressiva? Ah perché Se il rete ti abbandona la caccia facilmente Ti attaccherà Attacca le sue prede Appena le vede Qua dice un po' tutte le caratteristiche di sta creatura Ah ne hanno fatte tante Oddio alcune sono rimaste piccole Mentre altre sono diventate normali E mi sa che quelle altre Perché abbiamo Che normali Come io Quelle là Piccole Sono quelle Che abbiamo trovato Gli stegosauri D'altra volta Può essere Chiedo come ci siano finiti Qui nell'amministrazione Ma quello è un altro dettaglio Non so dove andare Ragazzi ho fatto qualcosa Non avevo visto Non c'era questo posto Quello che non so come fa Forse ho aperto la porta C'è qua? Si C'è una telecamera Dove vedete Questa è una telecamera Questa è una telecamera Mi sono stati nemici Cosa è? Ho sinfurgence Della fondazione Scipit Ma a parte queste Cose che Non so io Che lingua è? C'è Che bella questa Non so cosa sia Sembra tipo ordini militari A quanto pare Una dice Fossil fluo Quindi Di qua sono Istinti Impressati Questa è una telecamera Questa è una telecamera Questa è una telecamera Questi Non so di cosa armarmi Al momento Io prendo questo Oltre le camere Allora la parte Del mio Allora la parte Questa è una telecamera Che paz брava E questa è una telecamera Un po' apple Grazie per la visione Grazie per la visione Ok, salviamo Grazie per la visione 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 Grazie per la visione